Un singolare progetto del Politecnico di Bari, un sistema di rilevamento per studiare l'ecosistema dei due mari di Taranto, in esclusiva le immagini subacque della sentinella del mare. Gianni Matera. Quali conseguenze avrebbe uno sversamento incontrollato di petrolio in Mar Grande? Quali gli effetti dei prelivi d'acqua marina per il raffreddamento degli impianti industriali? Come bonificare il Mar Piccolo senza compromettere il Mar Grande? Un modello matematico che riproduca il complesso ecosistema del Mar Grande di Taranto potrebbe prevedere tutto. Un team di ricerca del Politecnico di Bari, guidato dal professor Michele Mossa, sta indagando i meccanismi che regolano la vita di questo singolare ecosistema marino. La strumentazione scientifica è installata su una meda, uno dei segnali per il traffico navale, e misura ogni possibile variabile parametro del mare e del tempo. Marco Donghia, il tecnico che opererà sott'acqua, si prepara all'immersione. La stazione è ancorata a un fondale di 25 metri, i pannelli solari alimentano un sistema di monitoraggio complesso. Sulla sommità una stazione meteo, mentre sott'acqua gli apparati per le misurazioni di qualità delle acque. Sotto le onde il mare mostra tutta la sua vitalità. Il sistema è stato completato ieri con il posizionamento di un correntometro nel canale navigabile. Misurerà lo scambio di acque tra Mar Piccolo e Mar Grande. Il nostro obiettivo è di fare in modo che questa sia una stazione di una rete di stazioni, sempre con la logica della collaborazione con gli altri enti di ricerca.